E con gli occhi chiusi, portate le vostre mani a coprire una parte dell'anima. And with your closed eyes, please, think whom you want to help in your life. E sempre con gli occhi chiusi, pensate a chi volete aiutare nella vostra vita. Think about your parents, your family, your friends. Pensate ai vostri genitori, alla vostra famiglia, ai vostri amici. One more time, inhale to your solar plexus. Ancora una volta, inspirate. And visualize the pyramid inside your solar plexus. E visualizzate questa forma della piramide dentro la vostra anima. E mentre ispirate, rimuovete la vostra attenzione dal cuore con la preghiera. E sentite come la vostra energia trasforma dal fuoco all'aria, questa energia che diventa compassione. E adesso formate una piramide con le vostre mani, come il mudra. E attraverso il vostro cuore e questa piramide che avete formato, mandate amore a tutte le donne del pianeta. E adesso mandiamo amore e protezione a tutti quelli che con noi partecipano a questa serata. Perché le donne che sono qui con noi stasera sono molto speciali. E adesso possiamo sentire come le nostre anime sono connesse in una sola grande forza d'amore. E anche coi vostri occhi chiusi vi apparirà un sorriso sulla faccia. Perché adesso non vi sentite più sole ma unite con cento altre donne. Adesso ancora una volta ispirate. E poi espirate e aprite i vostri bellissimi occhi. Grazie tantissimo per essere qui con noi insieme stasera. E se mi vedete e mi sentite bene mettete un segno nella chat. Così tanti cuori che cosa bella. Mentre scrivete in chat vi dirò un segreto della mia vita. Circa vent'anni fa mentre ero in Brasile uno dei miei studenti mi diede la canzone. Ero andata in Brasile con sempre un programma per le donne e appunto una delle mie studentesse mi diede questa canzone. E la canzone era in italiano. E la canzone era in italiano. E in questi più di vent'anni ho girato trentadue paesi diversi. Ma questa canzone è sempre rimasta con me nel mio profondo. E in questa canzone non capisco tutti i temi e le parole ma ricordo che è riguardo al cuore, riguardo all'amore. E se volete dopo la serata ce la manda via email. Perché l'ha usata in tantissimi paesi mentre faceva la danza con le donne ed è sempre stata molto utile per il lavoro sul femminile. E così vorrebbe appunto condividerla con noi perché è il primo contatto con l'energia spirituale italiana. E mi ha portato la sensazione di questo potere fortissimo che l'Italia come paese molto antico ha. E le donne soprattutto quelle italiane per questo motivo hanno risorse illimitate di energia. Do you know about this? Già conoscete questa vostra energia? If you feel this please put the plus in our chat. Se potete sentirla mettete un segno nella chat. Very good. Wonderful. Great. Thank you so much. Fantastico grazie a tutte. E vi aprirò i vostri segreti. That exactly now from today the portal is opening its astrological portal for Italy. Esattamente da oggi per l'Italia si apre un portale astrologico. And from this moment till the winter solstice, you will have a great chance magic period that you can materialize your wishes. E da questo momento fino al solstizio d'inverno avete tantissime possibilità di materializzare i vostri desideri. L'insegnamento che io in oltre 25 anni ho sempre cercato di portare alle donne è come rendere più forte noi stesse. E questa materia, quest'opportunità mi ha dato la chance di aiutare centinaia di donne a realizzare il loro destino, i loro desideri. E anche ora qualcuna di voi che è particolarmente sensibile potrà capire che io le sto mandando energia. E se voi vi sedete vicine. Comode e tirando su in alto la testa. Potete ricevere tantissima energia che comincerà ad aiutarvi già da questo momento. E alla fine della serata vi chiederò di fare una cosa. E se volete dirigere questa energia verso i vostri propri desideri, propositi dovete promettermi che la farete. E' una cosa molto semplice ma vi garantisco dei cambiamenti forti. Quando finiamo la serata dovete accendere una musica che vi piace tantissimo. E mentre ballate dovete pensare al vostro futuro. Che cosa volete cambiare nel vostro futuro? E dovete proprio immaginare che cosa andrete a fare nei prossimi anni, quali risultati volete raggiungere. E questa energia sarà proprio diretta a creare il vostro futuro. E adesso facciamo un piccolo esercizio. Questo esercizio lo potete fare a casa da sole soprattutto verso la fine della giornata quando tornate dal lavoro. Perché tutti i giorni quando parliamo con le persone, quando abbiamo delle difficoltà, accumuliamo energie negative nella nostra aura. Recentemente una donna di 35 anni è venuta da me dicendo che non riusciva a dormire chiedendo cosa poteva fare. E ho sempre mal di testa, sono stressata, non riesco a riposare e quando mi sveglio faccio veramente molta fatica. Le ho dato uno degli esercizi di base da fare per due settimane, lei l'ha fatto e poi è tornata da me in uno stato emozionale fantastico. E mi ha detto, Diana, mi sento ringiovanita di dieci anni. E siamo pronte per esercitare questo compito. Se lo siete, date un segno in chat. Due pluses. Anzi, due segni. Due pluses. Ok, sì, sì. You are very creative, different pluses. Dice che le basta il dito all'insù, ma che le piace che siamo molto creative. Ok, let's start. Hit your palms. Sfregate le vostre mani, i vostri palmi. And heat like very, very strongly. E fatelo molto forte. Feel that they become warm, then they become hot. Sentite che diventano tiepide e poi che diventano molto calde. More. Ancora di più. Yes, a little efforts. Un po', che cominciano a dare un po' fastidio. More. Ancora di più. Ancora di più. If you feel hot, it is good. If you not feel hot, you should do more. Se sentite molto caldo, va bene, altrimenti dovete farlo di più. Ok. Now, inhale. Adesso, inspirate. So, breath. Trattenete il respiro. Trattenete il respiro. And then you do, like, cut. Ha! E poi fate questo respiro che taglia. Ha! Energetically, like you're cutting, disconnect yourself with all these negative intenses in your aura. Questo modo di buttare fuori l'aria taglia tutte le connessioni che noi abbiamo con le energie negative nella nostra aura. Let's try again. Adesso rifacciamolo. Heat your palms. Sfregate i palmi. Flop. Applaudite. Heat. Sfregate. Hot. It makes it be hot. Finché non sentite molto, molto caldo. Pensate a qualcosa che non vi è piaciuto durante il giorno, qualcosa di stressante, qualcosa di negativo. And now, inhale. E adesso, inspirate. Sto breath. Trattenete. Ha! E buttate fuori. Ha! And the third time. E la terza volta. Sfregate. We will do this cutting at the level of our thoughts. Dobbiamo fare questo respiro di taglio finale allo stesso livello dei nostri pensieri. Because sometimes the thoughts influence at us. Perché spesso i pensieri ci influenzano. And bring us some self doubts. E ci portano qualche cosa indesiderata. Fears. Paure. In shamanismo we call it bad spirits. Nello shamanesimo li chiamiamo spiriti maligni. Inhale. Inspirate. Sto breath. Sto breath. Sto breath. Trattenete. Ha! Very good. Now for a minute, please close your eyes. Ora chiudete gli occhi per un minuto. Permaneize your breath. Regolarizzate il vostro respiro. Aum. Very good. With a new inhale, please slowly open your eyes. E adesso continuando a respirare lentamente aprite gli occhi. How are you, my dears? Come state? How do you feel? Cosa sentite? I feel very much vibrations in your auras. Dice che sente molte più vibrazioni nelle nostre aure. Yes, I see it's more clean, more bright now. They feel more energy, they feel warm. Yes, I recommend you to do this exercise every day before you go to sleep. Le raccomanda di fare questo esercizio ogni giorno prima di andare a dormire. Because you can imagine that during a day we accumulate a lot of energies to our aura. And sometimes when we feel stressed, when we feel heavy energy, when we have some negative influences, it's not ours. E molto spesso quando ci sentiamo stressate, poco bene, quando abbiamo cattive influenze, non dipendono da noi, non sono nostre. È una pratica che potete fare sempre, che diventa un'abitudine come farsi la doccia o lavarsi i denti prima di andare a letto. È una pratica uguale, abitudinaria, ma energetica. Perché fin da quando siamo bambini i nostri genitori ci insegnano a lavarci i vestiti, a lavare la faccia, ma nessuno ci insegna come ripulire la nostra energia. E soprattutto le persone molto emotive e molto energetiche attraggono tante energie negative. E se non purificate e allontanate queste energie negative dalla vostra aura ogni sera prima di andare a dormire, E queste si accumulano se non le purificate e alla fine comportano dei problemi anche di salute, delle cose indesiderate. Si dice che a volte appunto fare questo esercizio può anche essere fisicamente difficile. È normale perché lo facciamo per la prima volta, quindi se il nostro corpo ci dà delle sensazioni strane. Significa che l'energia che arriva attraverso le nostre braccia, a quell'energia serve più purificazione. Perché questa è l'energia delle comunicazioni e delle relazioni attraverso le braccia. Ma se avete fatto questo esercizio è molto buono perché le vostre auras si diventano più luce, più puri. Però se voi fate regolarmente questo esercizio è una cosa molto buona perché ora la vostra aura è più luminosa, più pura. Questa è il primo step, la purificazione. La cosa più importante è la protezione e l'empowermento, l'aumento dell'energia. E farò con voi questo incontro speciale che si chiama appunto Mandala per una vita di successo. E questo corso è derivato dalla più grande energia cosmica che è appunto l'energia del femminile. Sicura che dentro di noi la possiamo sentire, che è come l'energia di un vulcano. E questa energia risiede in alcuni centri dentro la donna. Il primo è nella pancia. E questa è la fonte del potere della famiglia. E questo è l'organo che connette la donna con l'energia divina. Ed è una tradizione molto antica che ogni donna deve avere due mariti. E quando lo dico tutte si stupiscono positivamente. Il primo marito è il marito del cuore. E questo è il marito che aiuta le donne a sentirsi protette fisicamente. E il secondo marito è quello divino, quello del cielo. Per questo le donne nei tempi antichi facevano dei rituali per capire come attrarre e come connettersi con il loro marito del cielo. Potete chiedermi, quindi come si fa? Yes, or you know it. Oppure lo sapete già. Yes, the thing is that when the woman has the connection with the sky husband, with the God, she has very strong protection from all negative situations in her life. Il fatto è che quando le donne trovano questa connessione col marito del cielo, con il Dio, hanno un fortissimo senso di protezione. But everything starts with the womb energy. Ma tutto quanto parte dall'energia dell'utero. During our online school, I will share with you sacral knowledge how to use your family power to connect with the divine. Quando io studiavo, mi hanno dato questa conoscenza su come utilizzare la nostra energia della famiglia per connettermi al divino. Soprattutto in questi momenti dove ci sono tante cose che bloccano la nostra energia, come la malattia, il coronavirus, e il lockdown, noi dobbiamo trovare la nostra connessione. E ogni giorno studenti da tanti paesi del mondo mi scrivono che si sentono depressi, si sentono chiusi, che non sanno come fare per guadagnare i soldi. E' per questo che nel mio corso di scuola online gli insegno come fare propria la legge dell'abbondanza. Questa è la parte familiare della crescita spirituale. Questa è il modo per combinare, per unire l'abbondanza spirituale e materiale. Perché adesso stiamo entrando in un altro campo energetico che è l'era dell'acquario. E se vogliamo attivare l'abbondanza, se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, noi dobbiamo riuscire a connettere l'energia del cuore con quella del cielo. E soltanto connettendo lo spirituale con il materiale possiamo attirare l'abbondanza. Perché tutto quanto è energia. Se noi mettiamo in pratica i riti per purificare noi stesse dalle cose negative. Come risvegliare la nostra energia dall'interno. E come proteggere noi stessi e la nostra famiglia da tutte le influenze negative. Allora noi vinceremo, avremo successo. E lei sa che qui tra di noi ci sono donne spiritualmente molto forti e ci conosce dalle vite passate. E lei sa che queste donne sentono che vi conoscete già. E questa è connessione di anime. Perché questo è il momento in cui tutti gli spiriti di luce cercano di entrare in contatto con le donne per aiutare il pianeta. E noi chiamiamo queste donne donne di potere. Se vi sentite una di queste donne di potere vi chiedo di scrivermi personalmente sulla mia e-mail. E io condividerò con te una speciale meditazione, un speciale video che farai e connesserai con il circolo delle donne di potere in 32 paesi. E io condividerò con voi questa meditazione, questo video che vi insegnerà come unirvi a questo cerchio di donne di potere in 32 paesi diversi. Perché le nostre preghiere in questo momento sono importantissime. C'è una predizione che dice che quando un milione di donne comincerà a pregare tutte insieme, il nostro pianeta sarà salvo. Questo è il motivo per cui io ogni sera alle 9 faccio questa preghiera. E vi chiedo di unirvi a me se siete pronte per aiutare il nostro pianeta e le altre persone. Ci stiamo preparando ad un periodo astrologico molto importante che è il solstizio. E molto di quello che accadrà dipende da quello che voi farete durante il solstizio in vera. E proprio il giorno del solstizio d'inverno è un momento magico in cui voi potete creare tutto quanto il 2021. E mi manderà anche una meditazione che vi aiuterà a connettervi con lo spirito dei soldi. Qualcuno di voi mi ha già chiesto questioni riguardanti i soldi. Ed è molto interessante come possiamo usare questa conoscenza nella vita di tutti i giorni. Recentemente quando ho fatto uno dei miei ritiri una donna mi disse che aveva perso il lavoro. Ed era molto preoccupata perché non sapeva come prendersi cura dei suoi tre bambini. Non aveva marito perché avevano divorziato. Ed era una situazione molto pesante quella della sua vita. Quando è venuta ai miei incontri sul karma ho visto che nella sua vita passata lei aveva avuto importanti lezioni karmiche. E proprio questo spirito dei soldi venne durante la meditazione e ci disse cosa fare. Perché tutto quanto sul nostro pianeta è controllato dagli spiriti. Perché tutto quanto sul nostro pianeta è controllato dagli spiriti. Se avete avuto esperienze riguardo agli spiriti o se vi interessa mettete un più un dito all'insù nella chat. Se invece non vi interessa lo sciamanesimo mettete un segno negativo. Wow, so many spiritual people. Wow, thank you. Wonderful, thank you. Very good. I have a very advanced group today. Ha un gruppo di donne molto avanti oggi. Wonderful. Yes, my dears. And in the different traditions shamanism is the basic, basic knowledge how to communicate with this world. Nella, fin dalla tradizione antica lo sciamanesimo era la base su come comunicare con questo mondo. e ovviamente quando ci incontreremo durante gli incontri di scuola vi darò più informazioni su come gli spiriti ci possono aiutare nelle diverse situazioni. e vi farò anche vedere le immagini di come sono e vi farò anche vedere degli oggetti speciali, i talismani, che appartengono a ogni spirito. Ad esempio ci sono spiriti per proteggere i vostri bimbi da spiriti cattivi. Just two weeks ago, I had the situation that two years child was crying, crying, crying every night and the parents could not sleep. Solo due settimane fa ho avuto questa esperienza di questa bimba di due anni che piangeva ogni notte e i genitori non sapevano cosa fare, non potevano dormire. Ma quando ho dato ai genitori questo amuleto dello spirito che protegge i bambini, subito la notte successiva la bimba ha dormito bene. Anche ci sono degli spiriti che proteggono il vostro lignaggio. Anche ci sono degli spiriti che proteggono il vostro lignaggio. Also there are spirits who help you to attract money, attract good luck, attract abundance. E ci sono anche degli spiriti che vi aiutano ad attrarre soldi, abbondanza, buona sorte. E appunto, come vi ho detto, dopo la serata vi regalerò questa connessione con lo spirito dei soldi. E sarà una meditazione di cinque minuti ogni giorno. Ed è molto importante conoscere gli spiriti che vi attaccano con differenti malattie, disturbi. Perché questi spiriti agiscono sopprimendo il potere dentro di voi, il potere positivo, l'energia della salute in voi e nella vostra famiglia. Ovviamente lo spirito del coronavirus è uno spirito cattivo. E faremo il rituale per proteggere la nostra famiglia da questa influenza negativa. E avremo un ritiro il giorno del solstizio d'inverno. Sarà un ritiro di cinque giorni in Germania in cui noi accumuleremo energia e programmeremo l'anno prossimo. E naturalmente ci sono alcuni passi per questo ritiro. Il primo è iscriversi, partecipare alla scuola online. Poi le sessioni individuali, gli incontri individuali. E avere una speciale benedizione per poterlo fare. E adesso cosa andiamo a fare come prossima cosa? Adesso impariamo a sentire il potere e l'energia della nostra famiglia. Perché il potere femminile è quello più magico per noi. Mettete le vostre mani nel basso ventre. E immaginate l'interno del vostro utero. Con una luce. E ora chiudete gli occhi. E adesso quando ispirate, sentite come accumulate energia nel vostro utero, nella vostra pancia. E pronunciate dentro di voi. Questo è il mio potere. Lasciate che il vostro respiro sia lento e profondo. Questo è il potere del divino che mi sta arrivando dal Dio. Io me lo merito perché sono predestinata a essere donna in questa vita. Se sono una donna, ho questa speciale benedizione per aiutare il pianeta. E dentro la mia pancia c'è un tesoro. Il tesoro della mia energia femminile divina. Questa è la forza di nascita. Questa è la forza di nascita. È la forza della creazione. È la forza dell'amore. È la forza della protezione. È la forza della protezione. Sono una donna. Sono divina. Sono divina. Feel this inside yourself. Sentitelo questo dentro voi stesse. Ho la grande predestinazione di essere una donna e di aiutare questo mondo. Questo è il potere dell'abbondanza. Perché attraverso questo potere posso attrarre tutto quello che ho bisogno. E a ogni respiro voi sentite come questo magnetismo aumenta dentro di voi. Questo magnetismo è l'energia della passione che posso usare per attrarre tutto quello che voglio nella mia vita. E io proteggerò questo tesoro da tutte le influenze negative. Molto bene. Molto bene. Make deep inhale, deep exhale. Fate delle profonde inspirazioni ed espirazioni. E adesso ponete l'attenzione sul vostro cuore e metteteci le mani molto vicine. I vostri occhi sono chiusi. I vostri occhi sono chiusi. E i vostri occhi del cuore si stanno aprendo. E attraverso gli occhi del cuore guardate questo mondo. E sentite il desiderio, la volontà di aiutare questo mondo. E adesso cominciamo a pregare. E adesso cominciamo a pregare. E mandiamo energia e protezione al mondo. Immaginate tutto il pianeta. Immaginate tutto il pianeta. E adesso abbracciamo il pianeta con i nostri cuori e il nostro amore. Perché il pianeta ci chiede aiuto. con un abbraccio e con la protezione di tutto il pianeta attraverso l'amore. purifichiamo tutto il pianeta dallo spirito del coronavirus. From all disasters, from all wars. Da tutti i disastri e tutte le guerre. E preghiamo anche per quelle persone che hanno bisogno di aiuto. Se conoscete qualcuno malato che ha problemi di soldi, per favore mandategli questa energia. I bambini ovunque nel mondo adesso hanno bisogno di amore. Adesso abbracciamo tutti questi bambini con le nostre preghiere. Adesso abbracciamo tutti questi bambini con le nostre preghiere. Un grande campo di amore. E quando espirate, abbracciate voi stessi. Abbracciatevi con l'amore che vi protegga da tutte queste influenze negative. E dite a voi stesse grazie. E dite a voi stesse grazie. Grazie per avermi portato a questa parte spirituale. Grazie per avermi aperto alla missione. Grazie per avermi aperto alla missione. Grazie per aiutarmi in questa vita. Per incontrare le stesse persone. Per incontrare le stesse persone. Per incontrare le stesse persone spirituali. Perché insieme entreremo nell'era dell'acquario. Perché insieme entraremo nell'era dell'acquario. E adesso inspirate ed espirate e aprite i vostri bellissimi occhi. Grazie, miei cari, per aver provato questa meditazione insieme a me. L'energia delle donne ha questo grande potenziale di abbracciare e proteggere il mondo intero. E se ci ricordiamo del nostro potere femminile, lo possiamo usare per aiutare il mondo. Mi manderò questa meditazione musicale e questa musica è molto curativa. E' una musica creata dagli sciamani e purificherà la vostra casa da tutte le influenze negative. A lot of gifts are waiting for you, my dear ones. E moltissimi regali vi stanno aspettando, mie care. Namaste. Ci vediamo alla nostra tre giorni di seminari online e per favore non esitate a farmi pure domande via email. Se avete delle questioni private che non volete condividere con il gruppo, potete scrivermene privatamente. I will find the time for everyone. Troverò il tempo per ciascuna di voi. Because this is my mission to help you. Perché questa è la mia missione di aiutarvi. And don't please forget to dance five minutes after we will finish the webinar. E non vi dimenticate di ballare cinque minuti adesso che finiamo il webinar. Spirits now showed me like big big heart. Gli spiriti mi stanno facendo vedere un grandissimo cuore. Yes, this big heart on the Italia, on the map. Me lo stanno facendo vedere sulla mappa dell'Italia. You have big hearts. Avete dei cuori grandissimi. Grazie. 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 Namaste. A me è scomparso come al solito il video, però vi ringrazio per questa bellissima serata che ci siamo concesse. e come avevo promesso a Diana, l'ultima parte vi ricordo che il 27, 28 e 29 ci saranno questi workshop di cui a molte ho già mandato le informazioni, ma domani manderò a tutti gli indirizzi mail delle partecipanti di questa sera tutte le informazioni. per chi si iscriverà entro domani ci sarà un regalo da parte di Diana, il costo di workshop, ve lo dico già qui ma poi ve lo scriverò, è di 20 euro a serata. e il programma ve lo invierò per quanto riguarda la mail me la sono segnata anch'io e ve la rimando anche per me la mail di Diana e io vi ringrazio, vi ringrazio e sono molto contenta di quello che si è creato stasera. Namaste e buonanotte a tutte. Lascio che ancora nella chat vedo che state scrivendo quindi grazie. Grazie mille Delila, grazie a tutti per la vostra partecipazione. Lasciamo un attimo il spazio aperto per dispedirsi, per dire le ultime parole e vi ispitiamo a tutti nella scuola online il 27, 28 e 29 di novembre e se avete finito potete cominciare a ballare. Namaste. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.